ben ritrovati all'ascolto di liberi oltre io sono marco bellandi coordinatore della redazione podcast e oggi inauguriamo un nuovo progetto una nuova rubrica che sarà disponibile in formato podcast e in formato video si chiama l'orto di elsa ed è il podcast che abbiamo già annunciato qualche tempo fa in via informale di e con la professoressa elsa fornero che io saluto e ringrazio subito per la disponibilità buonasera a tutti buonasera marco e grazie per questo invito allora questa è un'idea un po curiosa sia nel titolo sia nel fatto che io faccia un podcast a me piacciono le cose nuove quindi ho accettato anche se poi credo che sia stato un po imprudente perché di cose ne ho già veramente tante e aspiro sempre a momenti di concentrazione con libri anziché a momenti di distrazione su internet comunque questo è e proviamo con questa sperimentazione perché l'orto è nato tutto da una battuta la battuta è stata la mia con michele michele boldrin che mi ha chiesto ma perché non fai un podcast e io ho detto ma michele io veramente adesso voglio dedicarmi un po al mio orto perché l'orto è una cosa seria che richiede molto tempo ed anche soddisfazioni se io dovessi provare a dire in due parole perché l'orto perché mi sono dedicato io non ho mai fatto orto nella mia vita però mio padre quando ero bambino noi avevamo l'orto ed era una cosa cui mio padre e mia madre si dedicavano molto l'orto essenzialmente in due parole vuol dire due cose crescere e maturare perché tu se fai l'orto seriamente parti dai semi se lo fai un po meno seriamente parti dalle piantine che già sono state messe in vivaio in semenzaio e quindi sono già un po cresciute ma l'orto vuol dire crescita crescita di qualcosa e vi assicuro che vedere una piantina che prima spunta come una fogliolina minuscolissima e poi cresce è una bella soddisfazione la seconda cosa è la maturazione l'orto vuol dire maturare vuol dire che se adesso andate nell'orto i pomodori li vedete minuscolissimi e però poi crescono e maturano quindi dal verde diventano rossi ecco mi piace questa idea di crescere maturare che mi sembra un po anche una metafora di quello che facciamo noi umani perché nasciamo cresciamo e sperabilmente maturiamo poi invecchiamo anche questa la parte meno bella ma anche le piante muoiono quindi questo fa parte della natura perciò mi piace e così è nata l'idea non volevo niente di pomposo e vi assicuro che questo podcast se lo faremo lo continueremo dipenderà un po da voi e dalle vostre curiosità e non sarà assolutamente pomposo saranno pensieri pensieri magari sollecitati da marco da qualcuno del vostro gruppo come lui ma spero non pensieri inutili o pensieri stupidi grazie grazie di questa spiegazione che è stata molto esaustiva e soprattutto ci dà un'idea del di quello che sarà il podcast e posso già assicurare tutti quelli che sono all'ascolto che cercheremo davvero di continuarlo e oggi abbiamo scelto come tema per partire con con il podcast quello che sui social che sui social la proposta che sui social ha preso il nome di dote ai diciottenni è un po il nome giornalistico che si è data alla proposta che ha fatto il segretario del pd enrico letta e secondo il quale bisognerebbe istituire una dote di 10.000 euro da consegnare alla metà meno abbiente dei diciottenni italiani una volta tutti gli anni e i fondi per questa dote ed è qui che forse si sono scatenate le polemiche più dure sulla proposta di enrico letta verrebbero dall'aumento dell'aliquota dell'imposta di successione per eredità da passano da genitori ai figli quando superano i 5 milioni di euro aliquota che verrebbe portata al 20 per cento oggi invece sappiamo che al 4 per cento e questa proposta dovrebbe toccare secondo le stime del partito democratico è soltanto l'uno per cento della popolazione l'uno per cento più ricco della popolazione ma sarebbe comunque sufficiente a coprire i 2,8 miliardi necessari per il finanziamento di questa proposta obiettivo di questa proposta secondo il partito democratico e enrico letta è diminuire le disuguaglianze e aiutare i giovani professoressa elsa fornero lei da anni si occupa di ricercare e proporre alla politica soluzioni per migliorare le prospettive dei giovani per rimetterli al centro dell'attenzione e allora io leggendo questa proposta e ascoltando le parole di enrico letta mi viene insomma da dire che finalmente no forse la politica sta facendo qualcosa che vada in questa direzione al netto di tutte le polemiche che ci sono state che poi magari discuteremo dovrebbe infatti arrivare fra poco anche michele boldrin che su questo ha un'opinione abbastanza diversa da quella che ho io e magari sentiremo cosa avrà da dirci però intanto io chiedo a lei sbaglio o questa proposta va nella direzione diciamo giusta rispetto alle idee che da anni vengono discusse nel dibattito pubblico e che lei porta avanti allora io ho cominciato un articolo che ho scritto per la stampa su questo tema mi ha chiesto il direttore giannini massimo giannini ho cominciato proprio dicendo finalmente la politica sta forse riscoprendo i giovani e quindi per me l'aspetto positivo della proposta di letto di enrico letta è esattamente quello di avere riportato l'attenzione sui giovani naturalmente con grande scandalo di alcuni e invece un fervore di assenso da parte di altri come sempre in italia le proposte anziché discutersi a loro nella loro sostanza coi vincoli che ci sono con le possibilità in maniera operativa anche rispetto agli obiettivi si discutono dal punto di vista della pil o meno che possono avere rispetto agli elettori di ciascun partito ciascun movimento che sia necessario occuparsi dei giovani credo che sia in dubbio perché i giovani sono stati forse la categoria che più ha sofferto le due crisi profonde quella del 2008 che da finanziaria è diventata poi economica e la crisi pandemica hanno pagato di più naturalmente il fatto è che queste due crisi vengono lo sappiamo dopo un periodo di fragilità strutturale dell'italia che ha visto anche lì i giovani essere colpiti voi sapete che sono state fatte molte riforme del mercato del lavoro negli ultimi vent'anni all'insegna della più o meno della flex security l'idea è vogliamo dare un briciolo di flessibilità in più nel mercato del lavoro accompagnandola con un po' più di sicurezza da là dove c'è solo precarietà queste riforme che magari sono state motivate dalle migliori intenzioni però hanno concentrato la precarietà proprio sui giovani e sulle donne a dire il vero quindi le categorie più colpite diciamo che la flessibilità ha mostrato il lato meno buono trasformandosi in precarietà nella fase di ingresso nel mercato del lavoro che però è stata lunga e diventa sempre più lunga quindi noi abbiamo adesso dei giovani che non sono neppure più tanto tali anagraficamente perché magari sono con 35 36 37 anni e hanno alle spalle soltanto anni di precarietà lavorativa che sono in difficoltà rispetto a qualunque piano di vita muoversi comprarsi una casa e così via quindi questo vuol dire che forse noi dovremmo correggere quello che è il bias tradizionale la deviazione un po' sistematica che la nostra politica ha di pensare al welfare soprattutto in termini di pensioni soprattutto in termini di accesso al pensionamento questa è una questione che ha portato il nostro welfare a essere sbilanciato sul sistema pensionistico e a trascurare invece molto di più gli altri rischi che toccano il ciclo di vita il percorso di vita delle persone cioè il rischio di avere un'istruzione inadeguata un capitale umano inadeguato il rischio di avere soltanto dei lavori precari magari mal pagati spesso interrotti e così via quindi il rischio di non poter pianificare una vita e questo attenzione io dico deve andare più su queste età che non adesso senza parlare subito del sistema pensionistico che non magari riversare nuove spese nuove spese ripeto sul sistema previdenziale quindi letta ha smosso le acque e aver smosso le acque è una cosa buona la misura che lui propone è corretta ma secondo me io non mi scandalizzo io dico che intanto tassare le successioni di nuovo è un argomento che inserito all'interno di una riforma nel sistema fiscale ha un senso non è che sia una misura particolarmente punitiva nei confronti degli investimenti non è una misura particolarmente punitiva nei confronti di tutta diciamo la volontà anche imprenditoriale che le persone possono avere di mettersi in gioco è una trasmissione ereditaria e quindi in una certa misura è vero che le ricchezze accumulate possono venire da come dire capacità merito ma anche un po' da fortuna e qualche volta magari da attività non proprio legali questo anche dobbiamo riconoscerlo quindi c'è tutto un mondo dietro ma insomma credo che considerare ripeto all'interno di una riforma del sistema fiscale la possibilità di aumentare la tassazione sulle successioni non debba gridare allo scandalo l'altra considerazione è che volevo fare si tassa per trasferire ai giovani in stato di bisogno io avevo capito diversamente da quanto Marco aveva detto avevo capito che si dà ai nuovi giovani che entrano diciamo nella maggiore età ai 18 anni ma non tutti gli anni tutti gli anni ha i nuovi che arrivano altrimenti non è più è una dotazione una dote che si dà a chi compie 18 anni nell'anno e si trova in condizioni di bisogno è una misura appropriata anche su questo si può discutere pacatamente ci sono tante cose che ai giovani debbano tante cose che possono aiutare i giovani anche più di questo nel mio articolo io citavo tre cose primo la crescita il paese ha bisogno di crescere e dalla crescita secondo me possono arrivare i nuovi posti di lavoro e quindi l'occupazione anche per i giovani questa è la cosa importante la seconda poi dobbiamo qualificare la crescita che sarà naturalmente nel senso verde nel senso digitale qui abbiamo tutto il piano nazionale di ripresa e previdenza che ci darà una mano perché l'Europa su questo assumerà un atteggiamento io credo e mi auguro severo di controllo la seconda cosa sono le opportunità dare le opportunità è necessario secondo me le opportunità si danno anzitutto sul mondo nel mondo della istruzione quindi a cominciare dagli asili nido ma c'è una parte anche importante su questo nel pnrr e quindi questa è la cosa importante dopodiché se una tantum per i nuovi che arrivano diciottenni si vuole anche dare una piccola dote io non non mi scaldo ma non trovo che la cosa debba sconvolgere nessuno ultima osservazione si è detto ah ma questa è la solita redistribuzione e la sinistra non sa far altro che pensare a togliere gli uni per dare agli altri allora posto che io ho detto prima crescita secondo rendere il terreno di gioco più livellato e togliere ostacoli a quelli che invece ne hanno tanti sul loro terreno di gioco io penso per esempio ai bambini di certe zone del nostro paese di certe aree del nostro paese seconda cosa e la terza è questa dote che è una redistribuzione chiaramente ma quante redistribuzioni abbiamo fatto noi a favore degli anziani negli ultimi anni sotto forma per esempio di trasferimenti di ricchezza pensionistica messa a carico dei giovani senza che nessuno gridasse allo scandalo di questa redistribuzione allora se di redistribuzioni vogliamo parlare parliamone ma mettendole tutte e non solo considerando quella diletta come un abominio e le altre invece sempre meritevoli perché le nascondiamo sotto un una dizione diversa ecco io mi fermo qui e credo di aver espresso il mio pensiero grazie grazie del suo intervento aveva capito bene lei e male io riguardo alla proposta diletta prima giustamente dell'introduzione un po concitata rispetto alle cose che sono successe fuori onda e che abbiamo avuto un po di problemi tecnici insomma sono stato un po frettoloso nello spiegare questa cosa però lei è stata molto più puntuale e corretta di me intanto ci ha raggiunto Michele Boldrin che saluto e ringrazio per essere qui con noi Michele Boldrin il quale invece sin da subito sin da quando questa proposta è stata fatta ha avuto subito una reazione molto molto critica diciamo che da quello che mi è perso di capire Michele considera questa Michele Boldrin considera questa proposta un po uno specchietto per le allodole una uno spottone elettorale che si utilizza insomma quando non si hanno altri argomenti questo mi pare che anche fosse l'argomento che tu avevi tirato fuori nella live con Sandro Brusco qualche giorno fa quindi Michele io voglio chiedere a te che cosa non va invece di questa proposta di Enrico Letta e cosa invece andrebbe fatto al suo posto? Allora anzitutto mi scuso perché la causa di tutti i problemi sono io la mia connessione internet casalinga oggi mi ha fatto dannare terzo riunione importante video che salta facendo perdere tempo a me e soprattutto alle persone con cui dovevo lavorare ma noi abbiamo parlato abbiamo parlato di orto quindi è andato ho avuto fortuna per venire in ufficio dove invece la connessione funziona e tutto funziona detto questo allora ho sentito credo quasi tutto quello che ha detto Elsa sono arrivato che avete iniziato ma credo di aver capito sì è vero è la dote per i diciottenni sono d'accordo su tutto fuorché su una cosa oddio c'è una cosa da aggiungere secondo me sulle cose che servono per la crescita di giovani ma sono d'accordo soprattutto sulla parte finale però la parte finale ecco vengono a disturbarmi anche qua non preoccupatevi l'ignorerò mi hanno visto arrivare in ufficio i colleghi hanno detto Michele sono alla porta allora la parte finale io sono stamente d'accordo partirei da lì quante redistribuzioni dannosissime sono state fatte in questi anni contro a sfavore dei giovani lavoratori o della gente che produce in generale e a favore di altri gruppi sociali in particolare va detto gli anziani enormi sono tutte nascoste sotto il tappeto esatto allora la maggiore di queste io partirei da lì è quella del sistema pensionissimo che si continua a fare e già si vocifera e si lavora per estendere ulteriormente con le storie di quota 92 lavori usuranti questo giochetto tremendo del pensionamento anticipato mandando in pensione a 60 anni persone che poi vivranno altri 30 anni prendendo una pensione piena bene una delle ragioni forse la ragione fondamentale perché per cui sul mercato del lavoro oggi il giovane italiano in italia è difficilmente occupabile comunque quando occupabile riceve un reddito basso è perché è sottoposto a una pressione nota come cuneo fiscale una pressione fiscale e di contributi alla sicurezza sociale enorme che gli decurta il salario e che rende assolutamente non conveniente non conveniente investire in italia per creare posti di lavoro qualificati perché perché ti costano tra il 50 e il doppio 50 per cento del doppio che altrove quindi se vogliamo fare redistribuzione a favore dei giovani lì c'è un posto rapidissimo per iniziare se davvero si ha la volontà politica di produrre crescita e di favorire i giovani lavoratori i lavoratori in genere perché non solo i 18 anni perché 18 anni c'è anche un elemento di retorica voglio dire ci sono dei quarantenni dei 35 anni dei trentenni dei ventisette anni per dire un po' di numeri a caso che non se la passano bene e che se la passeranno male negli anni a venire grazie a questo bene allora il mio invito al PD è bene affrontiamo seriamente la questione delle pensioni ora c'è da tagliare un 10 per cento di spesa pensionistica e da restituirlo globale vediamo come farlo in maniera equa in maniera razionale progressiva senza fare disastri sociali ma c'è da tagliare almeno un 10 per cento di spesa pensionistica in essere oggi in essere oggi e restituirla ai giovani via via riduzione dei contributi sociali questo è il primo punto di fondo il secondo punto qual è? perché il leader del partito di fatto di maggioranza politica in questo governo perché i 5 stelle avranno la maggioranza parlamentare ma non hanno certo la maggioranza politica e apparentemente homo novus se ne esce e dà così tanta enfasi a un tema di questo tipo dove ci sono due elementi ora ne discutiamo solo uno quello che ha fatto i giovani e dopo vorrei tornare sul lato cioè sull'idea del restituire tassando i maledetti ricchi allora perché se ne esce con la proposta cioè perché incentra l'intero dibattito politico economico su questo tema come se questo fosse lo spartiacque perché sai Elsa se avesse parlato delle cose che hai detto tu l'istruzione gli ostacoli alla mobilità sociale il sistema scolastico universitario che non forma i giovani li rovina li riduce a impreparazione li scaccia quando li tiene dentro gli dà un pezzo di carta che nell'ottanta per cento dei casi purtroppo non implica formazione perché scordiamoci i posti fortunati dove i tre qua presenti hanno in funzioni diverse la fortuna di operare o di studiare o di lavorare noi sappiamo che il buon 80 75 per cento dei ragazzi che escono dall'università italiana e dagli istituti medi superiori sono purtroppo purtroppo molto poco qualificati per il mondo del lavoro attuale quindi non hanno davanti la potenzialità di reddito non hanno non hanno possibilità l'istituzione ecco perché non incentra su questo il dibattito e invece non incentra su questa cosa dei diecimila i diecimila tra l'altro qui ci sono due problemi e finisco uno è quello classico italiano ISEE o non ISEE se tu dai diecimila a seconda delle dichiarazioni di reddito in Italia darai metà di quelli a figli di evasori fiscali ai figli di evasori fiscali non di lavoratori della fabbrica non di piccoli artigiani produttivi ma a figli di evasori fiscali scusate continuano a bussare ecco qua e vabbè continuano volevano portarmi a una riunione gli ho detto che non posso andare quindi questo è un primo problema non da poco perché in Italia tutte le volte che si parla di redistribuzione ai alle persone che ne hanno necessità secondo i redditi dichiarati mi dispiace mi dispiace io mi rifiuto di prendere in considerazione qualsiasi proposta di redistribuzione fatta su quelle basi perché il sistema fiscale italiano e i meccanismi di controllo di rendito effettivo e di ricchezza sono assolutamente inefficaci ed ingiusti li ho vissuti per i 30 anni e i 27 che ho vissuto lì li ho visti li vedo tuttora in Italia sono in corso follie come la redistribuzione a favore perché l'ETA non blocca il super bonus casa perché non lo blocca è una sfacciata gigantesca redistribuzione da chi non ha da chi non possiede la casa cioè i giovani da chi ha messi i redditi da chi non ha gli amici costruttori edili verso chi la classe medio alta che la casa ce l'ha le ristrutturazioni se le fa i soldi per fare la ristrutturazione ce li avrebbe e ne mette anche un po' e c'ha l'amico come dire con l'impresetta che magari fa anche la fattura aggiustata questo sta succedendo all'Italia ora qui c'è proprio un aspetto politico di fumo sugli occhi per quello io mi sono ribellato Sandro ho visto ha avuto la stessa reazione presa in giro i 10.000 poi finirebbero come tutti i ragazzi giovani che ho visto che hanno reagito finirebbero probabilmente per fare nulla perché 10.000 euro a 18 anni e questo su cui sono molto serio possono fare più danno che bene una scuola che funzioni a 18 anni serve un'università che funzioni a 18 anni serve 10.000 euro in tasca a 18 anni temo non serve posso dire qualcosa perché allora io capisco moltissime preoccupazioni ma voglio dire che qui c'è un po' Michele la distanza tra il politico e il tecnico io ho avuto non so come dire l'occasione di essere ministro del nostro paese e lì quella distanza l'ho vista nel paese intanto una forza politica sarà anche per il fatto che le forze politiche hanno disabituato i cittadini alla verità e per troppo tempo ricordiamoci anche tutto il periodo della sterile e negativa contrapposizione tra il berlusconismo da un lato e tutto ciò che questo rappresentava e l'anti-berlusconismo dall'altro con tutto ciò che questo rappresentava sterile e nociva perché ha contribuito oggettivamente a un abbassamento della visione e della capacità di indicare una direzione per il paese da parte della politica ma questo c'è e noi allora adesso parlare di una politica che dovrebbe anche aiutare il paese a crescere in conoscenza oltre che magari anche in coscienza è quasi velleitario allora è chiaro che i partiti oggi devono piantare delle bandierine io non dico che la mossa di Letta sia stata particolarmente felice non dico anche io per esempio lo dico apertamente trovo che Letta così come il suo predecessore del quale io avevo stima mostra una condiscendenza eccessiva nei confronti dei 5 Stelle io penso che un partito che ha una storia e che non è una storia così negativa che ha anche dei momenti di grande utilità per il paese di grande svolta positiva per il paese e questo partito deve essere in grado anche di come dire educare un pochino i politici meno provvisti di conoscenza perché è il suo compito quindi se vogliamo dirla tutta io non mi accodo a quelli che dicono ah beh sì poi capisco anche che il PD ha l'esigenza di trovare degli alleati se no non va da nessuna parte ma deve anche migliorare gli alleati non solo come dire seguirli perché questo non va bene ecco le cose di cui parlavamo la crescita le opportunità queste sono molto contenute nel PNRR quello è un piano di cui i partiti non riescono a trasformarli in loro battaglia politica perché questo è un piano che ha un nome e cognome scritto sopra cioè Mario Draghi quello di Conte non andava bene arriva il governo di Mario Draghi il piano lo costruisce sarà difficile anche per Mario Draghi eseguirlo ma con questa autorevolezza di cui Mario Draghi è dotato è difficile per i partiti metterci lì una bandierina e infatti tu li vedi che pure essendo nello stesso governo sono lì a litigare se si deve mangiare in quattro piuttosto che in sei a un tavolo quanti sono all'aperto quanti possono stare nel chiuso cioè una cosa non hanno più altro che briciole e quindi hanno anche un'esigenza di dire qualcosa ai loro elettori che sia riconoscibile io penso che Letta sarebbe disposto a dire va bene mettiamola così ho fatto una provocazione vogliamo parlarne adesso il governo ha messo in piedi un tavolo tecnico per fare una riforma del fisco quello è la cosa seria nella riforma del fisco un trasferimento di imposizione fiscale dal lavoro al capitale in qualche misura ci vorrà perché solo ridurre le imposte Michele il nostro paese non ce la fa le deve distribuire meglio meglio facendo pagare tutti quelli che non pagano quindi questo è già un grande aiuto se l'evasione fiscale è oltre 110 miliardi di euro come erano le ultime stime prima della pandemia ce n'è di lavoro da fare nel recupero dell'evasione però io ricordo anche che quando il nostro governo magari non l'ha fatto bene ma quando ha cercato di farlo tutti quelli che che così erano pronti a criticare qualunque cosa ci diedero anche chiamarono Monti Rigor Mortis e dissero che quello era un provvedimento che uccideva l'economia quindi non è sempre facile perché poi ti arriva quello pure di sinistra che parla dell'evasione fiscale di necessità del fatto che certuni se non evadono non ce la fanno e quindi tu ti trovi come governante come chi ha responsabilità sprovvisto perché poi sei invece preso di mira allora io non voglio affatto sostenere che la proposta di Letta sia quello che mancava voglio dire che l'attenzione ai giovani è importante e una proposta che metta i giovani con un segnale concreto in prima fila è importante la seconda cosa è vogliamo parlarne vogliamo parlare delle redistribuzioni nascoste che non hanno generato scandalo parliamone vogliamo parlare allora di evasione fiscale seriamente anche qui il governo secondo me non è che ha cominciato benissimo sto parlando del governo Draghi perché la solita il solito condono con cui comincia a governare non è proprio una piccola macchia o neanche tanto piccola ma insomma comunque è così allora di tutte queste cose vogliamo parlare in maniera tranquilla pacata dando anche noi tecnici un aiuto ai politici e sapendo che la politica deve disintossicarsi da tutto questo populismo perché si dice il populismo è finito con la letterina di Di Maio è finito il populismo e no siamo seri anche questo mi sembra esagerato la lettera di Di Maio a me sembra che risponda sarà cresciuto non ne dubito ma comunque risponde a ragioni di convenienza perché se ha fatto quella lettera avrebbe dovuto farne anche molte altre per chiedere scusa magari di molte altre cose incluso tutte le cose che hanno detto del PD con tutte le cose che accusavano di violentare molestare ai bambini cose che insomma non sono tanto facilmente dimenticabili io questo tipo di accuse non lo dimenticherai tanto tranquillamente e se dovessi allearmi con chi ha fatto quelle accuse direi per favore adesso dite una parola di scuse su quella vicenda dite che quelle cose le avete fatte perché volevate cavalcare la vicenda perché le avete fatte prima che un giudice dicesse che ci sono delle prove quindi c'è molto da fare però ecco prendersela proprio colletta per questa proposta nel marasma delle cose criticabili sul piano della politica italiana mi sembra un po' ingiusto nei suoi riguardi devo dire ancora una cosa Michele poi mi taccio devo dire ancora una cosa perché io ho fatto una riforma delle pensioni per la quale sono stata voi sapete sono stata dire criticata è un understatement ma diciamo anche violentemente criticata e ho molte cose che vi potrei mostrare su questo su questo uso della parola violentemente quello che voglio dire è che noi oggi non ce la facciamo onestamente a tagliare la spesa pensionistica del 10% quello che dobbiamo fare secondo me è cominciare a dire alle persone che quota 100 è stato un errore è stato un errore che ci ha anche costato abbastanza chiaro che adesso dobbiamo riportare il sistema pensionistico sul sentiero della riforma magari cercando di correggere alcune cose che possono essere corrette riguardo alle categorie più in difficoltà parlo dell'app e social ma tagliare del 10% credo che sia unfeasible non realizzabile lo devo dire perché mi metto nei panni di uno che entra in quel ministero certamente non lo farà il ministro Orlando su questo non ci piove ma Michele sto gettandoti una sfida se tu facessi parte del governo e fossi il ministro del lavoro dubito che tu stesso non solo riusciresti ma vorresti farlo quando sei lì e quando ti accorgi di quanto difficile è sì sì mi ero mutato allora prendo il tuo invito al volo hai messo molta carne al fuoco e siamo scesi sulla politica io capisco le tue simpatie che non sono le mie allora nell'ordine l'unica cosa che chiederei di fare altrimenti me ne andrei perché proprio facendo il tecnico non c'è altra strada è inutile raccontare vedi una delle cose che ho imparato Alberto Bising aveva una buona maniera di metterlo quando iniziamo a fare il blog 15 anni fa se tutte le volte che mi pongo un problema da tecnico da economista mi impongo mi auto impongo il vincolo della politica italiana cioè del consenso attuale e del punto di vista attuale dei partiti non propongo nulla e infatti vorrei dire solo di non avere rivolte sociali Michele solo quello non dico il consenso non ce l'hai se tagli quando un paese va a rotoli come l'Italia o si ha il coraggio di almeno di dire chi fa il tecnico di cosa ci sarebbe bisogno oppure è meglio lasciar stare io ritengo e tra l'altro fatti i conti non è così impossibile perché un taglio io parto sempre dalla situazione dei peccionati che conosco tipo mio padre sua moglie che è morta da poco e da altri se a mio padre taglio che lui è un pensionato medio non è né nella parte alta né nella parte bassa se a mio padre taglio il 10% di pensione al mese netta perché poi alla fine è il netto che conta nel caso dei pensionati a mio padre vive bene lo stesso risparmia un po' di meno questo vale adesso e valeva a 80 anni cioè 13 anni fa perché adesso ne ha 93 vive mio padre nel lusso no vive decentemente bene direi che vive meglio di una delle sue figlie e decisamente meglio di quello che vive la sua nipote di età adulta e non ha mai pensato di andare in Portogallo per evitare la tassazione no mio padre è molto attaccato alla lacuna di Venezia dove andava a fare l'urta questo gli fa onore comunque questo e quindi quindi su quello quindi per quanto mi riguarda cerco di stare sull'aspetto tecnico e non c'è dubbio alcuno se devo dare una valutazione politica ma direi sai il problema non è prendersela colletta il problema è che te la prendi con quelli che ti dovrebbero dare un minimo di speranza di cui il problema cioè se Letta Di Maio e la sua banda li ho già scritti li ho written off come si dice a queste parti che ho detto di tutto da quando esistono su Costoro non è che ho bisogno di aggiungere altro per carità aggiungo infatti ogni volta che posso però se uno che in teoria doveva essere un momento di svolta rispetto al neo-ghevarismo introdotto dal gruppo dirigente precedente del PD se ne esce con una proposta assolutamente ridicola e strumentale perché tale è una proposta ridicola e strumentale che tra l'altro aizza lo scontro sociale perché crea l'impressione che vi siano dei una classe media o medio ricca che deve restituire perché quindi quando si restituisce 6 si restituisce il mal tolto ed il messaggio politico sociale che questo dà è semplicemente orrendo oltre che illusorio è uno dei mali peggiori d'Italia tu hai menzionato Berlusconi esatto l'Italia dai tempi di Craxi oltre che di Berlusconi cioè da 40 anni circa si adagia si illude si droga sul fatto che esistano soluzioni debitorie redistributive al suo ritardo sociotecnologico non esistono e 40 anni di declino lo mostrano da 40 anni si vendono agli italiani proposte di questo tipo illusorie false fumo negli occhi gli italiani adorano culturalmente il fumo negli occhi ci credono regolarmente creano miti Craxi Berlusconi ne abbiamo avuto una sequenza tremenda quando poi capita che un governo di tecnici come è successo il vostro provi anche maldestramente su alcune cose come sai io mentre approvavo di gran lunga quello che hai fatto tu non approvavo alcune delle decisioni prese da molti neanche un po' da alcune altre operazioni fiscali ma adesso non è inutile rifare il passato di dieci anni fa quasi il punto è che diciamo così in media il vostro governo ha cercato di dire guardate signori in realtà le fantasie che vanno raccontate fino ad oggi non funzionano ma sai è impossibile in un paese che per decenni ha creduto a illusioni cosa vuoi se in tre mesi li convinci che quelle illusioni tali sono non lo crederanno ti odieranno quindi il compito del politico specialmente se un politico che si ripropone di essere europeo tecnocratico avanzato onesto è di dire la verità la prima cosa che dice racconta una bugia gigantesca allora certo che mi delude perché come al solito sai il vicino delinquente non è che ci sto a litigare tutti i giorni lo so che delinquente lo evito se anche in casa mi spunta uno che mi racconta la favola mi arrabbio di più perché è più forte la delusione se vuoi io credo che la reazione di molti come Sandro che era molto incazzato sulla cosa più di me forse alla proposta letta sia che una tremenda è delusione infatti gli scambi nella redazione sono stati proprio di questo tipo loro sono tutti pdni tra l'altro sono l'unico dichiaratamente tutta la redazione di Nostroamerica ha il cuore nel pd e dicono non ce la faccio più questi sono impazziti perché perché il messaggio è un messaggio completamente distorto Elsa ma io se dovessi parla sulla politica credo che sul piano tecnico siamo d'accordo quella cosa francamente non aiuta i giovani come dire no diciamo che io la vorrei collocare all'interno di una discussione più ampia che parte dal da ciò che occorre fare per i giovani e allora dici guarda Enrico che questa cosa qui non va bene adesso quindi puoi continuare a dire ah io se avessi la possibilità lo farei non sono io adesso al governo ok dal dire questo al dire invece vediamo il sistema fiscale tutto perché è vero una cosa io non sono una politica io ho fatto parte di un governo capisco però una cosa che qui bisogna fare noi abbiamo un piano nazionale di ripresa e resilienza che ci dà l'occasione guarda di cambiare il paese e su sei anni che sono niente nella storia di un paese ma che possono rappresentare un'occasione per cambiare direzione e noi abbiamo bisogno di cambiare direzione rispetto a tutti quei difetti strutturali che abbiamo accumulato nel tempo e anche alle conseguenze delle due crisi che abbiamo avuto quindi questo ce l'abbiamo noi avremmo bisogno di un PNR per la ricostruzione della politica quindi PNRP ricostruzione della politica questa è la cosa di cui abbiamo bisogno però qui noi non sono cose che fai con i soldi l'Europa ci prova dandoci credito e dicendoci perché hanno fatto tutto tu lo sai bene tutto il can can sul MES dimenticando che i condizionamenti che sono in questo PNRR sono condizionamenti anche maggiori certo non si menziona la troica va bene però i condizionamenti ci sono e se dovessimo non dovessimo tradire i nostri impegni e dovessero ritirarci il credito beh vedi che il nostro debito allora comincia a ballare fin da subito e tu sai benissimo che allora lì lo spread andrebbe molto su e allora non so a quale santo perché di supermari ne abbiamo avuti ma non mi sembra che ce ne sia un altro all'orizzonte quindi dovrebbe saremmo veramente nei guai allora dove la ricostruzione della politica è vero non si fa con questi messaggi però io capisco che anche ogni tanto ne abbiano bisogno lui aveva bisogno di dare un messaggio ai giovani e anche di sinistra dopodiché possiamo metterci intorno al tavolo e dirgli a Enrico tranquillo sereno non si può più dire ma tranquillo cerchiamo di fare delle cose un po' più articolate e non di cadere nella trappola di Salvini che ogni giorno tira fuori essa un'altra bandierina per peraltro in maniera sempre meno efficace vorrei dire per avere spazio nei TGI sui social e tutto dove riesce ad averlo quindi l'economia ha bisogno della politica la politica non può prescindere dall'economia le due devono in qualche modo procedere insieme e se noi abbiamo un deterioramento della politica in situazioni di crisi economica il paese paga un prezzo più alto di quanto potrebbe perfetto abbiamo raggiunto i 45 minuti di discussione che c'eravamo prefissati negli accordi iniziali quindi direi di chiudere la prima puntata dell'orto di Elsa qui io ringrazio la professoressa Elsa Fornero per le riflessioni e il tempo dedicatoci e ringrazio ovviamente anche Michele Boldrin per le sue riflessioni che oggi hanno fatto un po' da contrasto è stata una discussione secondo me molto proficua e che sarà utile anche per il pubblico in modo da orientarsi rispetto a una proposta che ha fatto molto discutere e che sta facendo ancora molto discutere grazie a tutti quelli che sono stati all'ascolto auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata grazie a voi e io adesso corro nel mio orto grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri